Alex Tentoni, centrocampista del Verucchio, allora non un campionato positivo l'anno scorso per il Rosa Nero, quest'anno cos'è cambiato? Allora quest'anno abbiamo una squadra per molti versi diversa, sono cambiati allenatore, allenatore dei portieri, quasi la metà della Rosa, quindi cerchiamo innanzitutto di fare gruppo, di capire cosa vuole il mister e cercare di metterlo in pratica, di mettere in pratica le sue idee e sperando di fare un buon campionato. Qual è l'obiettivo della società quest'anno? L'obiettivo è sicuramente cercare di fare il meglio possibile con i mezzi che abbiamo e che ci danno i mister e lo staff in generale e puntiamo ai play-off però stando con i piedi per terra cercando di fare più punti possibile partita dopo partita.